I Scissari sa festezan che amaranno la festa dell'indipendenza, una festa popolera ma con un messaggio politico. Il messaggio politico ha detto che il tutto l'Europa si è sostenuto per la fiducia di l'indipendenza. Il comandante di Scissari di Oñez, Stefan Lienzberger, ha riuscito la vera e la Ucraina. La vera e la conseguenza della oppressione, pesce e la clarità, perché è molto importante la vostra indipendenza di Lienzberger. Per i Scissari di Surtirol, vuole l'indipendenza di scissari di Roma, per se metterà domani con il giugno di Tirol. Allora da egona Zemmer, l'accompagnia di Scissari di Ortigai, i d'andri saura stanchi di Scissari a livello provinciello, da sarjans cominciare a se fè pensieras, coccion poda sa vivermi e stil da unui e l'agnola sa vesti.